Eh padre Felice, pure il ringraziamento, tutta la ghiaccia del scritto, la facciamo rimettere in macchina, io la devo portare, questa è la fotocopia del, come si chiama, della nomina della nomina papale, la metto nel mio ufficio in direzione, no questa si deve mettere in attiva, quello poi, se però dico le tengo, poi al momento opportuno le prendiamo, ho fatto la fotocopia perché quella si deve conservare, altrimenti qualcuno dice che non è valida, e non è stata timbrata, no la fotocopia non è timbrata, questo è per il cappellano che viene dopo e deve portare, e la borsa non la presta, è qua, la borsa, la borsa ci sta la medaglia, se c'è la medaglia, vieni vado a incontro, partecipa a questo momento, loro sono un po' sola che ci bacia, così felice, mi dà una roba a stile, la vuole? La carino la vuole, se non è femmina, va bene, no 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 no, io ci vuole essere tolto nella stile, si, noi lo vediamo, aspetta Don Giorgio, poi vi spiego un po' tutta la cosa, allora ci togliamo dal sole, ma voi ormai abitate al sole, dove si spunta il sole? E voi non siete venuto più però, ma io mi hanno mandato a fare il militare, che devo stare a fare, venite con tutti gli ufficiali e tutti i toccati, no no lasciate stare gli ufficiali, è meglio venire con le persone, con le persone semplici, poi non so come si definiscono i vostri ufficiali, è la generale, è la generale, è la generale, è stato promosso, è stato